Siamo con Daniele Rossi, CEO di Sky Solution. Dottor Rossi, quali sono le soluzioni che Sky Solution propone ai propri miei siti del cuore? Intanto vi prevede dire che noi siamo molto orientati all'innovazione, per cui la digitalizzazione ovviamente è un elemento che si fa parte dell'innovazione ed è indiscutibile. Le nostre soluzioni sono orientate prevalentemente sulla gestione del documento, con l'informatizzazione, la firma elettronica avanzata, attraverso le nostre soluzioni che offriamo, che sono soluzioni integrate, con consulenza di processo, tecnologia software e servizi post-specita, per cui la massima fruibilità per il documento. Abbiamo tecnologie RFD, radiofrequenza e notification, per tracciare i prodotti che si muovono in termini della logistica dei clienti, ma anche nell'ambito dei trasporti, qualunque tipo sia, nave, aereo, piuttosto che altro. Per cui con queste tecnologie noi riusciamo a dare la possibilità al cliente di controllare il flusso dei loro prodotti e per cui l'originalità e tutto quello che ne succede dall'uscita all'altro trasporto verso i clienti finali. L'Enterprise.com è il documento del documento di immagine e soluce, è un altro elemento cardine della nostra soluzione che ovviamente sposa tutto il concetto di digitalizzazione e mette il fattore comune con tutto quello che riguarda il ciclo documentale dall'input all'out. Benissimo. Una breve dichiarazione a caso sulla partecipazione di SkySolution a Omat Follows. Sì, direi molto bella, l'organizzazione è stata perfetta, una buona affluenza di partecipanti, questo ci fa molto piacere, siamo nuovi sponsor, credo che sia stata molto, anzi sono sicuro, è stata molto positiva, forse anche meglio delle aspettative, e sono sicuro che dovremmo replicarla quanto prima perché i risultati poi sono dati dalla partecipazione e dal feedback dei clienti e quindi in questo caso è stato così. Grazie mille di sale. Grazie mille di fare.